Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Termina a Bergamo la partita tra Atalanta e Genoa, 5 a 1 risultato finale. Che dire, questa è la tipica partita della Dea che tira fuori in ogni stagione. Ricordo la prestazione super contro la Salernità, ogni anno tira fuori delle prestazioni così. Ed è questo che tra virgolette mi fa arrabbiare della Dea, perché a volte butta via dei punti in maniera, mi avviso, veramente ingenua, barra inconcepibile, come la sconfitta con il Como. Che, ok, il Como ha assolutamente i suoi meriti, ma ragazzi, ma la Dea è una squadra nettamente superiore, è una squadra che ha vinto l'Europa League, è una squadra che a livello europeo comunque sia fa vedere cose interessanti. E poi perde punti in quel modo lì e oggi demolisce in questa maniera il Genoa. Quello della Dea è stato uno show quest'oggi ed è stata, a mio avviso, una vittoria molto più facile del previsto. Perché sinceramente mi aspettavo, mi aspettavo un Genoa sconfitto, però così proprio è stato demolito, è stato sul classato, vedete un po' voi. Mi spiace, mi spiace per il Genoa sinceramente, ma soprattutto per Gilardino, però oggi la Dea ha fatto quello che ha voluto, ha fatto quello che ha voluto. Fatemi sottolineare il gol di Ederson perché a mio avviso è un golasso quello lì, un golasso, gli ha tirato una legnata incredibile, un grande gol. Un grande gol e anche quello di Deron secondo me è bello, è un bel gol. Il goline, mi avviso, non la vede perché sbuca in mezzo a mille gambe, però è veramente un grande gol. E Deron ce l'ha un po' questa cosa ogni tanto di provare a calciare così come gli viene il pallone. A me, io l'ho sempre detto, chi mi segue da più tempo lo sa, a me piace tantissimo il giocatore che ci prova. Poi vada come vada, ma io è una cosa che apprezzo tanto. Certo, se lo fai da 60 metri, no, deve avere un senso logico, però bello, 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 bello. E poi, cosa gli si vuol dire oggi a Retteghi, signori? Io penso che sia sicuramente contento, però abbia un pochettino di quella amarezza per averli fatti al Genoa. Cioè, lui è arrivato in Italia grazie al Genoa, viene venduto dal Genoa e la sua prima tripletta la realizza proprio contro il Genoa. Io penso che avrebbe preferito farla contro qualsiasi altra squadra, ma non al Genoa. Invece quest'oggi si porta via il pallone e io sono molto contento per lui. Perché sta dimostrando di una crescita, una crescita. Poi, sicuramente è bravissimo Gasperini a far rendere i giocatori, ma... Bravo, 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 bravo. E io sinceramente lo preferisco per distacco a Scamacca. Un giocatore che mi preferisco nettamente. Tra l'altro ha segnato su rigore, quindi diciamo... Si toglie quel pensiero che comunque dà sempre un po' fastidio dell'errore contro l'Arsenal. E ha meritato, ha meritato, appunto. Oggi secondo me quello che è un pochino mancato è stato Lukman. Sapete che a me piace tanto, ma io da Lukman mi aspetto di più. Anche lo stesso De Kettler, secondo me, poteva fare un po' di più. Samarzec quando è entrato ha provato a fare qualcosina. Però comunque sia non ha fatto niente di che. Zaniolo idem, si vedeva che aveva voglia, voleva trovare il gol. Non ce l'ha fatta. Però io vedo uno Zaniolo che ha voglia. Ecco, questo sicuramente è positivo. Mi fa piacere. Perché è un giocatore che assolutamente deve ritrovarsi, deve trovare la continuità. Perché sennò diventa difficile. Diventa veramente difficile. Quindi c'è poco da dire, ragazzi. L'Atalanta ha fatto quello che ha voluto quest'oggi. Ha fatto quello che ha voluto. Peccato per il gol. Ecco, questa è la nota negativa. Ha peccato per il gol perché... Comunque se è una squadra che prende sempre gol. Cioè è veramente difficile che la Dea non prenda gol. Infatti io cerco sempre di stare molto lontano dai portieri della Dea. Dopo aver avuto l'esperienza qualche anno fa con Musso al fata calcio. Basta. E niente. Che dire. Più di questo. Sull'Atalanta a mio avviso c'è ben poco da dire. Ha funzionato praticamente tutto, dai. Invece il Genoa. Signore, io so che molti diranno Eh, ma Gilardino... Secondo me non c'è neanche da stare a parlare di Gilardino. Gli hanno di fatto smontato l'attacco. Gudmundson. Riteghi. Ha problemi a centrocampo. Non ha Messias. Non ha Malinowski. Gli è tornato adesso Miretti che comunque sia... Oggi è... Ha fatto fatica ma era una partita oggettivamente difficile. E la squadra non è cambia molto aiutato. Credo si sia anche fatto male Bani per infortunio. A quel che ho capito è uscito per infortunio. E poi al suo posto è entrato Vogliacco che entra e regala il rigore alla Dea. Quindi... Cioè, che cosa le si vuol dire a quest'uomo? Poi c'è anche da dire. Ha pochi punti. Vero. Ha cinque punti in sette giornate. Vero. È anche vero che però ha affrontato la Roma e ci ha pareggiato. Ha affrontato l'Inter e ci ha pareggiato. Ha giocato contro la Juve e ha perso. Ha giocato contro l'Atalanta e ha perso. Comunque già si è tolta quattro big. Poi è vero, pesa la sconfitta col Venezia. Pesa la sconfitta col Verona. Però col Verona, secondo me, per quello che sta facendo del Verona, ci sta. Col Venezia sicuramente poteva fare di più. Però non è facile, signori. Non è facile. Con tutti gli infortuni, con tutti i problemi, non è facile. Il Genoa deve assolutamente fare qualcosa. Addossare le colpe a lui mi sembra abbastanza ridicolo. Anche perché se aspetti Pinamonti... Non ho tanta fiducia, sinceramente, in Pinamonti. Ve lo dico proprio chiaramente. Mi sembra l'attaccante che a farla grossa, ma proprio a farla grossa, può arrivare a dieci gol in questa stagione. Ma a farla grossa non so neanche se ci arriverà. Vitigna. Secondo me è un giocatore interessante, ma non è uno che segna. Ti può fare l'assit, ti può fare la giocata, però in genere ha bisogno di gente che la butti dentro. Malinowski era uno che ti poteva dare una mano con i suoi gol. Messiasse è uno che comunque qualche gol te lo fa. Miretti, secondo me, è quel tipo di giocatore che di gol comunque te ne può fare. Almeno 4-5 te li può fare tranquillamente. Quindi deve assolutamente trovare la quadra. fare punti con Roma, Inter e Monza non basta. Deve fare assolutamente di più. Perché poi comunque se a livello del Genoa non è neanche così basso. Nonostante gli infortuni da stare fuori dalla zona salvezza, secondo me sì. È certo che tutte queste situazioni, dal mercato a situazioni di infortuni, non ha aiutato, assolutamente non ha aiutato il Gila. La mia stima per lui resta assolutamente invariata. Detto ciò, signori, fatemi sapere la vostra show della Dea. C'è poco da dire. Iscrivetevi al canale, diffondite il verbo. Vi do appuntamento a domani, ok? Un forte abbraccio. Ciao. Grazie a tutti.